Ora due Ave Maria, in memoria dei 72 anni in cui sarebbe vissuta la Vergine Maria secondo la tradizione. Ave Maria, rallegrati pieno di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Ave Maria, rallegrati pieno di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù, però dovrei lamentare una cosa, tanto per non cambiare, se proprio Paterpia ci diceva che siamo tutti quanti quali. Purtroppo l'organizzazione qui a Pettocino c'è molto importante, addirittura ci sono delle cose iniziali, per soggetti che non ho capito ma che sono stati organizzati, affinché ci fosse una messa per pochi intimi. Non ci dobbiamo lamentare se poi il popolo si è mandato alla Chiesa, il Padre Francesco, il Padre Francesco ce lo dice tutti i giorni, siamo tutti uguali, mi meraviglio che le autorenecni stassi che possono, hanno per l'ennesima volta colpato tutto l'aspetto organizzativo, lamentere che ci ho fatto anche al Presidente che era più presente. Quali sono i sentimenti che si provano nell'avvicinarsi al corpo di Padre Pino? Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.